Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo Se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video haul un po' random Ho messo tutto qui dentro Ho acquistato da Arcaplanet qualcosina per il mio cagnolino Che è la guest star di ogni video ovviamente L'ho preso, lo volevo prendere inizialmente su Amazon Però trovandolo lì direttamente ho visto che c'era, l'ho preso Sia dentifricio che spazzolino della Resto 1000 Era quel dentifricio che mi aveva consigliato Il veterinario che vi aveva pulito i denti C'è sia l'identifricio che lo spazzolino Era perfetto, non può stare neanche eccessivamente Quindi se vi può interessare ve lo consiglio C'è su Amazon e da Arcaplanet Non so se gli altri negozi ce l'hanno Questo pagato 15,80 Con 2 centesimi di sconto Poi ho preso Della Perfect Care Spray anti tartaro Sempre per i denti Questo pagato 6,99 È proprio la linea che io stiamo usando il dentifricio della loro linea per il cagnolino Questo qui è proprio apposta anti tartaro Protezione per i denti e gengive Speriamo Poi ho ripreso questi due Che sono i collari natural neem Il collare è quello antiparassitario, anti zanzare e tutto Però naturale al neem Io ne avevo preso uno su Croci Si chiama il negozio Ho visto lì Poi la commessa Poi la commessa mi ha detto che era anche in sconto Non ho preso due Perché uno dura 4 settimane Non mi ricordo male Questi pagati 5,99 Però mi ha fatto lo sconto di 60 centesimi su ognuno Poi sempre random Perché è un po' random Ho preso da Cisalfa La cuffia per la piscina Breve storia per niente felice Avevo quella mia storica Della piscina Che utilizzavo anche quando facevamo a scuola piscina Quella era perfetta Ce l'avevo sempre davanti agli occhi Una volta che sono andata a cercarla Non la trovo più Ho smontato mezza casa Non la trovo Quella che avevo preso da Decathlon Che era taglia unica per adulto Mi è piccolissima Proprio È a metà testa Quindi non la posso usare E ovviamente il reso non la posso fare Ho trovato lei Che è specifica per I capelli lunghi Della Aquarapid Pagata 12,99 Poi sempre acquisti random Per le sono acquisti random Ho preso Che Per il finalizzato L'avevamo preso di un altro Un altro tipo L'aveva preso Poi non lo trovavamo Quindi non l'abbiamo trovato Ho preso lui Poi l'ha ritrovato Quindi ce l'abbiamo uno per uno Che cos'è? Praticamente Vi aiuta nella pulizia delle orecchie Questo è comprovato Si chiama Ear Cleaner with Camera Ed è vero Se riuscite potete farlo anche da soli È un'app nel telefono Si collega a lui Alla fotocamera E vedete tutto l'interno del vostro orecchio Io ve lo consiglio Se avete Come me Problemini Di Produzione Massiccia Di cerume Questo è Perfetto Lo trovate su Amazon Se volete vi lascio il link Se vi può interessare Non costa neanche tanto Poi Sempre su Amazon Comunque È a tema pulizia Ho preso Le testine Per gli spazzolini elettrici Che abbiamo Io e fidanzato Ne ho presi parecchie Queste sono quelle compatibili Non sono quelle dell'Aural B Perché quelle dell'Aural B Costano una ventina 25 euro 30 euro Queste sono praticamente identiche Pagate 8 euro o qualcosa E ho preso anche la copertura Trasparente Per lo spazzolino 5 euro e qualcosa Sempre su Amazon Poi non è finita La cosa è random Sempre su Amazon Ho ripreso il mio Multivitaminico Bene sì E sopra di quello Fatto a caramelle Gommose Ne prendete Una o due al giorno Io ne prendo due al giorno Ormai Questa sarà la terza Quarta confezione Io mi trovo bene Solo con l'Urm Multivitaminico E' perfetto Sempre su Amazon Pagato Sugli 8 euro 9 euro Sempre random Ma Una spesa un po' più ingente Notate qualcosa Abbiamo preso Il finanziato Si è preso Quello della Samsung Come tablet Sempre da 11 pollici Io ho preso Il Lenovo Tab P11 Ebbene sì Vi ricorda qualcosa? Ve lo ricordo io Se no Ne avevo preso un altro Tempo fa Su Amazon Purtroppo Dopo pochi giorni Di vita Si era spento E non si accendeva più Lo caricavi Niente Proprio morto Ho fatto il reso E mi è rimasto Il mio vecchio tablet Da 7 pollici Che io Tuttora utilizzo Solo che la batteria Si è un po' Col tempo Si è Si è rovinata E Tiene solo il 50% Della batteria Poi va direttamente a zero Quindi abbiamo deciso Di prendere Lui Per il lavoro Che fa Per il suo negozio Vi lascio sempre Il link Del sito Del negozio Su ebay E io Ho preso Questo Ho preso Ho preso Me l'ha scelto lui Ho fatto tutto lui Perché Come tecnologia È molto meglio di me Il tablet È questo qui Io Ho acquistato La cover Che doveva essere Un cielo stellato Ma a me Non pare proprio Cielo stellato Però È perfetta Perché è anche calamitata E dietro È proprio come se fosse Una cover Del telefono Del cellulare Proprio bella Aderente Così E Si chiude Ci ho preso Su amazon Sia la cover Che due Pellicole vetro Che ha sempre messo Il fidanzato Perché io Non ne sono in grado E poi Tutti e due Abbiamo preso La tastiera Che è questa Cosa gigante Qui I tablet Tutte e due Le abbiamo presi Da Media World Questa qui L'ha presa lui Da Media World Praticamente Ha la tastiera Con il suo cavo C'è la tastiera Dove c'è la tastiera Dovrebbe andarci Il tablet Poi la tastiera Va qui E fa tipo Da computerino Piccolino Ha il suo cavetto Per caricarla E della Celli Celli E' ingombante Tutto sto Baradà Però E' perfetta Nel suo Ha anche in dotazione La penna Io la penna Non la voglio Prendere per ora Per adesso Mi Ci trovo davvero Bene con lui Anche se E' un pochino Più grande Di quello che usavo io Però Mi ci trovo Stra bene Non parliamo Troppo forte Perché se va a finire Come l'altra volta Menni Altro acquisto Random Vedete già Una faccia Conasciuta E' Il libro Di Gaia Gaia Masera Cioè Basic Gaia Su Youtube Ha fatto il libro Con la Fabri Editore Chiunque può toccarsi Se sa come farlo Eccola qua Gaia Che praticamente Spiega un po' Tutto Sul trucco C'è anche Basic Gaia L'ho un po' Sfogliato Ci sono un sacco Di cose Interessanti Ci sono anche Le face chart Per fare Pratica Per fare Pratica Di trucco E addirittura Dei QR code Con video Inediti Se vedi Gaia L'ho preso Da Mondadori Store Dal Sito online Ma penso Che Al momento Del lancio Ce l'avranno Tutte le librerie Spero Per Gaia L'ho pagato In tutto Sui 17 80 Compesa La spedizione Quindi Non vedo L'ora Di sfogliarlo Vedere un po' Tutto ciò Che riguarda Come Imparare A truccarsi Vedete Mi piace Un sacco Sempre Acquisti Random Mi è arrivato Lui Che è Il Glutatione Niacinamide Body Wash Da YesStyle Mi è stato Omaggiato Da YesStyle Che ringrazio Praticamente È Un Bagnoschiuma Che è scritto Tutto In Magari c'è anche In inglese Perché se no Era tutto coreano È a base Di niacinamide E Centella Asiatica Glutanione È molto Più Idratante Per la pelle Dei soliti Bagnoschiuma Se voglio Vedere Com'è Eccolo qua Il bagnoschiuma Molto Denso Vedete È molto Più Idratante Questo L'avevo preso Per il Finanzato Volevo andare A lui Comunque Vedrò Se utilizzarla Anch'io Poi con la Pompetta È anche Comodo Questo Mi è stato Omaggiato Invece Da L'Ipercop Era un po' Che li vedevo Questi shampoo Anche da Ticotta L'avevo visto Ho preso Della Sunseek Ricarica Naturale One Minute Scrub Shampoo Detox Per cutte E capelli Grassi In teoria Dovrebbe fare Oltre che A lavare I capelli Da cutte Anche da Scrub Io Lo proverò E vedremo Perché ho sempre Sensazione Di prurito Proprio a base Della nuca È insopportabile Ho provato Tutta la linea Della Head & Shoulder Quella Derma Pro X Derma X Pro Come fare Del genere Solo la maschera Mi dà un po' Di sollievo Shampoo e balsamo No La maschera Dà un po' Di sollievo Al prurito Questo Speriamo Che mi aiuti Se l'avete provato Fatemi Fatemi sapere Che cosa dice Per dare Alla tua cutte E i tuoi capelli Un piacevole effetto Scrub In un solo minuto Shampoo Arricchito Con tè verde E limone Speriamo Funzioni Ce n'è anche Un altro tipo Per tutti i tipi Di capelli E questo invece È specifico Per i capelli Grassi Che io Alla base Ci do un po' Grassi Proveremo Questo Era Tutto Tutti gli acquisti Un po' E L'omaggio Vi ricordo Che Comunque È tutto Nella Descrizione Che il fidanzato Ha aperto Un negozio Su ebay Onigame store Vi lascio Tutto Nella descrizione Così potete andare A vedere A fare Shopping Ricordate Che avete Anche con il mio Codice sconto Che trovate Sempre qui Lo sconto Quindi Vi aiuta Anche Nello shopping Spero che il video Vi sia piaciuto È stato utile In qualche modo Lasciate un like Un commentino Qui sotto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Vi mando Un grosso bacio E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti